Terra d'Acqua News, siamo davanti alle nuove, anzi alle recuperate scuole Quacquarelli, un ritorno alle origini per le scuole. Sì, un doveroso e voluto ritorno alle origini alle scuole da parte di questa amministrazione, ma mi sento di dire anche di tutto il Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza. Queste scuole hanno appena compiuto 104 anni, sono le scuole di San Giovanni e Persiceto, sono le scuole dei persicetani e non potevano rimanere altro che scuole dei persicetani, però adeguata ai tempi che corrono, con più sicurezza e più tecnologia. Se appunto ha nominato la parola tecnologia giustamente, perché se da una parte esternamente è stata recuperata la struttura delle origini dell'epoca della seconda guerra mondiale, all'interno c'è una struttura tecnologica di tutto rispetto. Sì, queste scuole realizzate nel 1911 non solo abbiamo mantenuto come era giusto che fosse l'architettura sia esterna che interna con un confronto importante con la sovraintendenza ovviamente, ma abbiamo voluto renderle più vivibili, quindi aumentando la qualità della vita scolastica delle bambine e dei bambini all'interno, attraverso una serie di accorgimenti che oggi la tecnologia ci permette di fare. Quindi sono scuole dove l'acqua che scorre nel bagno o nei lavandini è a controllo automatico, per cui appena i bambini hanno finito quest'acqua qui non scorre più, le luci si accendono quando i bambini passano o quando c'è un'attività di un certo tipo, servizi di videosorveglianza, riscaldamento a terra, quindi abbiamo messo parecchi chilometri di tubi per il riscaldamento a terra, abbiamo ovviamente anche e soprattutto messo in sicurezza, quindi abbiamo fatto interventi strutturali partendo dal tetto arrivando fino al piano terra, interventi strutturali tali per cui questa scuola ha aumentato il livello di sicurezza in caso, speriamo di no, di sisma. E poi c'è anche il versante del risparmio energetico, perché parlando prima con il dirigente, lei diceva che sono stati adottati tutta una serie di accorgimenti per far sì che le luci si spengono automaticamente, che si regolano anche in base alla luminosità esterna. Esatto, ma anche la coibientazione stessa, questa scuola, come lei può ben capire, del 1900, insomma anche se negli anni è stata manutentata, quindi è stata comunque curata, non aveva ovviamente quelle che sono le tecnologie odierne per ad esempio non disperdere il calore d'inverno e far sì che d'estate dentro si rimanga fresco pur non avendo condizionamento, quindi la coibientazione, l'utilizzo di tecnologie per la luce, per l'acqua, per il riscaldamento, fa sì che questa scuola sarà anche una scuola che risparmierà molto sotto il punto di vista del consumo energetico ed anche ed economico che sappiamo incide molto sulla spesa corrente di un comune. Vuol dire che questa è diventata la scuola più moderna, una delle scuole più moderne del territorio di San Giovanni? Assolutamente, questa è la scuola per eccellenza, l'equacquarela scuola per eccellenza all'interno di un contenitore come questo più moderna del territorio. Altre scuole sono moderne però sono state costruite ex novo e allora su quello come posso dire la cosa era più semplice. Queste sono moderne, molto moderne, molto legate all'attualità ma all'interno di un contenitore che come dire ogni volta che io entro qua mi fanno venire i brividi perché se penso a tutte le persone che sono passate in questa scuola effettivamente mi vengono i brividi. A portare d'Acqua News Nicola Vallese, Sindaco di Persiceto Renato Mazzucca, grazie. Buon giorno, saluto a tutti.